E Totti che sposta Ernames, punizione per la Lazio. Lulic cerca di vedere che scelta fa a Radu, che rimane sulla tre quarti l'attacco, allora avanza Lulic. E Sornione sta arrivando Zana, nell'area di rigore della Roma. Passato il brazzo a Zana, possesso palla alla parte opposta della Lazio con Mauri, Candreva. Mauri, Mauri fa viaggiare ancora Candreva, è partito il traversone, Lulic e poi mette dentro Lulic per il vantaggio della Lazio. Al 26esimo minuto del secondo tempo, Lazio 1, Roma 0 sull'incertezza di Lulic. Sbloccato il derby, la Lazio in vantaggio. Lazio imbattuta nelle ultime due stagioni, compresa questa nei derby, negli ultimi quattro prima di oggi. Tre vittorie e un pareggio, ed ora è sbloccata la stracittadina. Non c'è più nessuno della Lazio seduto in panchina. Tutti i panchinari sono andati ad abbracciare l'ulice di terra squadra. Infatti adesso il Sato sta richiamando l'attenzione perché tutti i panchinari sono andati in pratica a bordo campo per festeggiare il gol. Non ha valutato bene la traiettoria Lobot, che è rimasto un po' nella terra di nessuno. In questa sua deviazione, con la mano aperta, alla fine la sua deviazione è diventata un assist per Lulic che è riuscito a coordinarsi a incrociare. Grazie.